Mattarella fa visita alla Camera Ardente a Crotone, folla invoca giustizia e verità. Il Capo dello Stato, che è atterrato all'aeroporto Sant'Anna di Isola Caporizzuto, ha raggiunto in auto l'ospedale San Giovanni di Dio, dove sono ricoverate 15 persone, i superstiti del naufraggio. Il Presidente è stato accolto dal Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Simona Carbone e dal Direttore Sanitario Lucio Cosentino, che lo hanno accompagnato nei reparti. Presidente, non ci abbandoni, è l'invocazione rivolta dalla folla al Presidente della Repubblica all'uscita dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Il Capo dello Stato si è limitato ad un saluto ed è salito sull'auto in direzione del poco distante Palamilone. Mattarella si è poi recato al poco distante Palamilone, la struttura sportiva già gremita di persone, dove sono state sistemate le bare e dove incontra i parenti e rende omaggio alle vittime della tragedia. In questa seconda tappa è stato accolto all'ingresso del Palamilone dal Presidente della Regione Roberto Chiuto e dal Sindaco di Crotone Vincenzo Voci e dal Vescovo Angelo Panzetta. Il Capo dello Stato si è trattenuto in raccoglimento da solo davanti alle bare raccolte nella Camera Ardente, che è stata organizzata a Crotone. Applausi della folla posizionata ai lati della strada, mentre alcuni gridavano giustizia, giustizia. Il Presidente della Repubblica ha lasciato il Palamilone di Crotone salutato dagli applausi dei cittadini. Presidente, vogliamo giustizia e verità, gli hanno gridato alcuni. Tanti gli applausi tributati al Capo dello Stato che non ha rilasciato dichiarazioni. L'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'ospedale di Crotone, dove sono ricoverati anche alcuni bambini, è stato preceduto da alcuni pacchi contenenti giocattoli, fatti consegnare dal Presidente Mattarella ai piccoli degenti superstiti che si trovano nel reparto di pediatria. Davanti all'atrio del nosocomio tra operatori e degenti, in tanti hanno applaudito il Presidente, che è apparso particolarmente commosso. I doni ai piccoli superstiti dal Presidente Mattarella erano di vario tipo, soprattutto peluche, pianole e piccoli robot telecomandati. Il Capo dello Stato si è anche intrattenuto nel palazzetto con i familiari.